ci credono in tanti è il momento andiamo 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 e tiriamolo fuori subito dai dai iniziamo bene iniziamo bene oh mio dio tempo oh mio dio oh mio dio iniziamo benissimo iniziamo benissimo ragazzi io scuro Maui ora c'è da incrociare le dita però anche se va male in una multi ci siamo già giocati un 50 e 50 nel caso quindi bene come ti senti come ti senti sta esplodendo tutto va davanti vai 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 dai dai portiamocelo a casa no no però dai a pt 6 lo possiamo accettare a pt 6 lo possiamo accettare multi delle armi tempo multi delle armi vai vai che la prossima è quella buona non succede ma se succede ma se succede oh mio mio dio ha fatto sì multi delle armi con film oh mio dio vieni vieni bello di casa eccolo eccolo C0 è a casa vediamo se abbiamo sbagliato può darsi che 76 l'ultima però vediamo è vero è vero è vero potrebbe essere perché noi abbiamo detto 75 perché ci piaceva è vero potrebbe essere potrebbe essere e infatti e infatti avevamo sbagliato a contare ok ok ragazzi incrociamo oh no 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 poi 62 cosa ce n'è un altro ce n'è un altro ce n'è un altro c'è un altro ce n'è un altro c'è un altro non me l'aspettavo pensavo fosse nelle ultime pull ero tranquilla invece era subito la seconda basta questa la coppia di fuoco ma no sono scelta entrambi quelli che non vuoi e prima dopo il 5 stelle ha molti delle armi ha portato poi alla multi del 5 stelle quindi vediamo ha scrittato basta 6 6 6 molti delle armi molti delle armi molti delle armi e ha piti 20 28 ce n'ho pronti no 22 22 che cavolo è 20 20 ce lo portiamo a casa raghi c 1 molti ok molti delle armi si va piti 68 quindi siamo anche vicini dai dai yes ok prima del soft di nuovo ora ok e abbiamo il 50 e 50 ragazzi spammate gli itto voi basta basta questa non richiamare di luksai no non può ah si no è vero abbiamo il 50 50 ora chiamamo itto ragazzi oddio anche lei una congiura basta nooo ecco lo sapevo doppio acqua lo sapevo doppio acqua volevo dire se dove arriva mona ma non l'ho detto c l'ho pensato l'ho pensato l'ho pensato e invece 75 e invece 75 per scammarci ben bene c2 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 ragazzi c2 bene da adesso puoi andare pt 0 siamo a 0 0 preciso si va a 10 eccolo yes dai dai vinciamolo questo basta shaling dai da pt 0 dai 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 si si no non ce l'ho ecco sono contentissimo ah ok pensavo fossi andato avanti se fosse bloccato lo schermo ho detto no no ok ok gg allora l'ho mai trovato ok gg per il sacrificial lo stavo capendo ti giuro ho detto ma che cavolo nooo va bene va bene però va bene pt 10 5 stelle ed è l'unico che vuoi quindi bene gin c c3 c3 quando vuoi tanto poi la scommessa la faremo dopo che è trovato il prossimo 5 stelle quindi andiamo ok ok daccene due daccene due ce ne stanno tre allora questa è la 76 77 78 79 80 ok 81 dai dai 81 e arriva lei niente ok ok da quando vuoi da adesso possiamo andare pt 4 andiamo a 14 si 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 meno male dai vinciamolo questo ragazzi vinciamolo chongyun ma che c'entra vinciamolo questo dateci sta c4 no ci sei ci sei ci sei ragazzi Mona ci sei quindi adesso era 33 andiamo a 43 yes dai dai meno male meno male meno male meno male meno male ci siamo ci siamo pt 43 dai intorno al pt 40 ci possiamo stare ed è la c4 meno male famonius r5 oh oh le soddisfazioni cioè tempo si sofferma a guardare i quattro stelle archi come cioè fossero una manana al cielo arriva hit c4 ma lui vede il famonius warbo vede l'altro sì le stelle doppio hito e l'abbiamo fatto c6 dai 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 ragazzi dai questa è la 76 diciamo io non so ok 76 no mamma mia 75 eccolo sempre prima non è vero sempre 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 c5 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 ragazzi c5 e qui si tira da molti andiamo ci siamo ragazzi crediamoci non abbiamo scommesso 76 noi 87 78 79 80 81 nooo 25 sta il gritter altra multi armi eh ci terrei a dirlo eccolo 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 ragazzi ovviamente non poteva mancare questa eccolo eccolo il settimo e ultimo vai quando vuoi multi tanto siamo tranquilli ora non lo possiamo dire però la rattacchi ciao quanto dai dai bravo chiamalo subito che si va a pt15 e si trova subito l'arma si fa festa oh my god oh my god oh mio dio oh mio dio l'ho detto si va a pt15 e si trova oddio uff dai qui ce la meritiamo subito siiii multi arriviamo a 67 ragazzi quindi eccoci ci siamo abbiamo il 5 stelle in questa multi qua ciao tokyo dai dai un'altra daccene un'altra no oh mio dio no la favonia no la favonia e la odio con tutta me stessa ragazzi io starma la odio quindi adesso c'è il 5 stelle in questa ok ce n'è magari anche doppio vediamo se Sara ha chiamato Itto e quindi l'arma di Itto questa sarebbe 63 eccola eccola yes refine 2 non 1 perché non è la G1 refine 2 ah si giusto ora si 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 è completamente random scusami non stavo capendo pensavo ai numeri no no ora che l'abbiamo trovata è ripartito da zero quel pt strano quindi può esserci anche l'almos bo dai dai yes yes refine 3 ragazzi forse almeno che non voglio uscire dopo la 70 e passa eccoci dai adesso è di nuovo random perché c'è sempre stata l'arma giusta quindi 64 65 66 skyward harp dai dai lo so che non è quella però quello hai detto che ti piaceva quindi uno va bene che non ne escano più adesso qui c'è il doppio 5 stelle ora è subito la prima perché è la 66 no 67 skyward harp di nuovo oh allora pt8 siamo a pt18 pt20 28 sì dai rifai in 4 pt pt ora vediamo ok ok yes a quante distanze qua usci in queue usci in queue 2 pt2 42 42 eccola eccoci dai 42 43 44 no no era 32 arrivavamo a 42 ah ok allora quindi 34 35 questa oh ce l'avevi già immagino no 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 non ce l'avevi no quanto è contento da parte il tuo show c'ho la oma esatto eh lo vorrei io la vorrei io la primordial la vorrei io la prossima praticamente comprende anche ecco e ci siamo dai speriamo sia la sua speriamo sia la sua dai abbiamo il 50 e 50 qui adesso o è l'una o è l'altra è l'ultima singola probabilmente yes refine 5 ragazzi refine 5 ito ci sei portato a casa qui però però la si così lo no ti sì questo ci todo si